Tra il 66 e il 67 Pasolini ha 44 anni e non è ancora l'intellettuale corsaro, luterano, quello che conosciamo di più, che con un ardore quasi mistico, insomma una foga crescente, diagnostica di fatto in mali dell'Italia del suo tempo, direttamente dalle colonne del Corriere della Sera. Però è un intellettuale comunque già apprezzato, riconosciuto in questi anni qui e soprattutto è un regista ormai famoso perché nel frattempo ha girato una serie di film, quindi Accattone, Mamma Roma, La Ricotta, Il Vangelo secondo Matteo e Uccellacce e Uccellini che l'hanno sdoganato nel mondo, l'hanno reso noto, acquisito una certa notorietà e anche incamerato una serie di premi. Nel frattempo però non ha smesso di scrivere poesie, infatti in questo periodo scrive Poeta delle Ceneri, che tra l'altro è un titolo più alla Cioran che alla Pasolini e che non è neanche un chissà che perla insomma in fatto di poesia, non bisogna aspettarsi una sorta di foglie d'erba di Whitman in versione ridotta, è proprio una cosa piccola in tutti i sensi, cioè breve e anche non troppo ambizione, insomma diciamoci la verità, Pasolini ci ha regalato di meglio sul piano artistico, però uno potrebbe dire ma allora perché dovrei leggerlo? Beh perché qui Pasolini parla al pubblico americano e facendo questo sente il bisogno, l'esigenza di raccontare la propria vita, cioè di presentarsi, di raccontare di sé come se lo facesse per la prima volta, perché in America di fatto negli anni 60 era conosciuto principalmente come regista, insomma, di fatto gli americani avevano visto i suoi film poco altro e in effetti Poeta delle Ceneri racconta la vita di Pasolini, cioè Pasolini parla di sé e comincia dalla nascita, insomma, racconta dell'infanzia, del rapporto conflittuale col padre, viceversa dell'amore per la madre, la fuga a Roma, il periodo in cui fu disoccupato, il lavoro come insegnante e infine la sua carriera di scrittore e regista che era al culmine, insomma, nella seconda metà degli anni 60, quindi parla anche del proprio presente, perché in questo periodo sta lavorando, per quanto riguarda il cinema, a Teorema, che uscirà nel 68, e per quanto riguarda il teatro, ad esempio, e ne parla anche appunto in Poeta delle Ceneri, a Pilade e a Fabulazione, che sono due testi teatrali che usciranno tra il 67 e il 69, ma in realtà viene fuori un po' di tutto in Poeta delle Ceneri, dalle sue preferenze in fatto di poesia, perché abbiamo detto parla del presente, si rivolge agli americani, non a caso tira in ballo a un certo punto Allen Ginsberg, che lui definisce un poeta fratello, parla delle sue scelte, delle sue svolte esistenziali e artistiche, come quando si sofferma sul suo essersi dato al cinema, come volontà di rinuncia di fatto alla propria nazionalità, perché abbandonando la lingua italiana come scrittore e essendosi fatto regista, Pasolini non ha fatto altro che abbracciare quella che nella sua concezione è la lingua universale per eccellenza, cioè quel linguaggio delle immagini che è il cinema. Quindi sul piano, diciamo, delle novità, delle cose nuove, non c'è niente, se uno conosce già in mente la figura di Pasolini, più o meno vagamente la sua opera, non c'è niente di sostanzialmente nuovo. E però al contempo ci sono ad esempio un paio di affermazioni che possono risultare sorprendenti. In un caso, ad esempio, quando lui senza troppi giri di parole definisce se stesso come un piccolo borghese che non sa sorridere e quindi tende a drammatizzare tutto, che è un'affermazione anche coraggiosa, se vogliamo, perché è molto autocritica, e comunque fa sempre un certo effetto sentire Pasolini che è marxista, militante, intellettuale impegnato che definisce se stesso un piccolo borghese, ma ci vuole dare il coraggio. E la seconda, che è proprio inaspettata, è quando lui verso la fine di questo poemetto sostiene che se potesse lui nella vita in realtà non farebbe lo scrittore o il regista o il saggista o il poeta, ma il compositore, cioè vorrebbe scrivere di musica lui, vorrebbe essere musicista. E qui è interessante la motivazione che dà, cioè lui dice vorrei scrivere di musica perché di fatto la musica è forse l'azione espressiva più alta e indefinibile come le azioni della realtà, quindi come ciò che mi mette più in contatto con quello che altrove definisce il fine pratico della mia poesia, cioè appunto la realtà, questo amore per la realtà che viene sempre fuori in Pasolini. Quindi per farla breve, se uno non vuole sbattersi troppo sui libri, i libroni a volte, tipo Petrolio, di Pasolini, o peggio ancora sui libri su Pasolini, Poeta delle Ceneri è un ottimo compromesso, è un'ottima introduzione, insomma quella che è la sua figura e la sua opera, l'editore è Archinto, è proprio un libricino, lo si vede, e in 40 paginette scarse c'è già tutto Pasolini.